permesso siamo in diretta siamo in diretta sui belli della diretta su 77 digitale terrestre lo sa venga qua non faccia caso ma siamo seri lo sa che rappresenta questa maschera lui è il mio barista questa rappresenta viareggio lei la domanda a me perché lei è ignorante non lo sa lo sapeva quindi questo è importante avere questa maschera ma viareggio questa maschera benvenuti a voi ma cosa fate qua noi siamo i belli della diretta guarda io sono un bello della diciamo ogni tanto vengono qua ma mi rupro l'ho visto io a qualche parte sì 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 ho un autosalone forse le che cosa fa può essere poi viene a pigliare il caffè a bauzano a volte viene il caffettino ma paga al signor boldi paga il caffè ma aveva spento la macchinetta non gliela potevo fare la macchietta spenta non pulita non la pulisco io non posso fare la vita dove siamo lei che mi ha portato qui siamo a cittadella di viareggio siamo a cittadella signora verza dove siamo siamo viareggio viva viareggio viva viareggio viareggio manderemo la direzione del carnevale di venezia facendo vedere che il signor boldi ha detto che il canno scherzo scherzissimo vi lascio il vostro amico il nostro amico facciamo un applauso a un grande a un grande è numero uno ma non come si dice oggi facilmente si dice a tutti se è un numero uno questo numero uno ciao ciao a tutti ciao ciao bene bene vede signor bauzano quali sono i grandi e l'ho portato io ah lei che l'ho fatto venire qui eh certo l'ho portato io perchè erano i bar e prendendo il caffè se abbiamo reggio si bisogna mangiare la fè 77 77 77 77 77 77 77 77 ma come che vuol dire il sul a ma dove si faccia il mio mattino dove ci porta si facciamola anche senza la canzoncina ciao ciao e per i belli della diretta non serve no aspetta i belli della diretta il nuovo canale dei belli della diretta sul 77 ci sei tu sul tv r il più 77 i belli della diretta no aspetta lo lasciamo 77 io dico 77 che vorrebbe dire questo 70 come che vorrebbe dire io ho il lop ecco due battute così smanettando così eh e poi non guardare me ma guarda l'obiettino la telecamera capito 1 2 3 go il suo nome donna rosa cara bella il suo nome donna rosa cara bella finita? bellissima è già finita? eh non ne sai un po' di più? te eh te fanno poi ti tagli a lui sì sì te o ti basta perché se ti fa vabbè vabbè fangelo un po' di più poi al limite te vai ti fermiamo noi ti fermiamo 1 2 3 go ciao ciao